Finalmente acque tranquille per l'ACA, verrebbe da dire. L'azienda acquedottistica esce dalla procedura concordataria, di fatto paga debiti per 70 milioni di euro, inizia anche a sanare i conti con i comuni per 21 milioni, cioè con gli azionisti, e annuncia un piano di investimenti da 98 milioni di euro. Le risorse, non solo fondi del PNRR, ma anche Masterplan e proprie. Mediante la distrettualizzazione dei sei comuni core del territorio servito e poi andremo anche su tutti quanti gli altri comuni. Poi ci sarà l'aumento, l'efficientamento della presa dell'acqua sul Tirino e ovviamente avremo le vasche e dei sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia, sia per il parco depurativo di Pescara che per il parco del Saline. Quindi noi lavoreremo per la resilienza idrica, rassicurare e mantenere sempre la disponibilità idrica, efficientare sempre di più la gestione dei depuratori e limitare anche il rischio idrogeologico. 30 milioni di euro saranno destinati al raddoppio dell'aduttrice Giardino. L'obiettivo è la riduzione del 30% della dispersione idrica che oggi si attesta al 49,9%. ACA ha avviato anche un piano di autosufficienza energetica e con i fondi propri sta investendo 700 mila euro per un impianto fotovoltaico nella sede degli uffici di Pescara e in altri otto impianti. È entrato in concordato con 100 milioni di euro di debiti, si tralciati a 70, siamo riusciti in questi anni a portare l'ACA a superare il concordato. È un importante risultato perché è la prima azienda in Italia pubblica che riesce a onorare il suo concordato con tutte le rate. È stata la prima azienda pubblica in Italia a entrare in un concordato in continuità ed è stata la prima azienda pubblica in Italia a uscire e onorare tutti i debiti che aveva in pancia.